Musica come si sono l'amico? come si sono l'amico si sono l'amico ancora l'amico sono l'amico come si può però come si è come lo sei come lo sei come si chiama? che chiama? che chiama? che fokussi come si è un' gioco se non si è un' gioco questo è il quattro potrò rambut ora ci sono il quattro quindi è abang tommy con un altro e adè, un altro compless questo è il quattro nulla è il quattro è un quattro è il quattro il quattro è il quattro questo è il quattro C'è il nostro canale. C'è il nostro canale? C'è il nostro canale. Ci siamo in Sumatra. Sumatra-Utara. Sumatra-Utara? Medan. C'è il nostro canale. Ci sono molto adicci, ci sono molto. Ciao ragazzi! C'è il nostro canale. Questa è il tutor a tutti. C'è i ruoti chary hai. Questa è piùle. Appreiety di Branne. Il nostro canale. So, sì. 先生 staccato! Può è iniziata. Siamo qui con tutti i nostri Quindi, benvenuti a Putri... Cosa? PuTri PuTri Channel, certo? Sì, Putri Questo è il più importante Ciao ragazzi! Voi tornare a Youtube di noi Qui è Putri? Cosa? 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 Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! In fare l'assure del�gare di Tanacaro I'm here with all these friends and kids. I'm so happy, I'm so grateful. I'm so happy, I'm so happy. I'm so happy to be here with all these kids. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I love it in Karo. I love it in Karo. I love it. I love it. I love it in Karo. 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 I love it. I love it in Karo. 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 molto bene Pagani? Ma c'é l'india. Ma c'è un'india? C'è l'india? Ma c'è l'india? Non c'è l'india? Oh, là là là... Spiore? Pagani? Siapai, non c'è. Siapai, non c'è più. Buongi! Sì, Bufi! Sì, bufi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.